Ci sei? Dammi tre secondi, silenzio per favore. Dammi tre secondi. Domenico Deccan, signor di Ferturas. Il perché di questa certificazione di qualità sui servizi sociali? Che senso ha che il titolo comune del 377 Comunissardi vada ricercando questa certificazione? Beh, la base è certamente quello di offrire ai cittadini un servizio il migliore possibile. Il migliore possibile perché, come ho avuto occasione di dire in diverse circostanze, anche quando abbiamo presentato questo progetto, il momento è particolarmente difficile. La gente ha necessità di essere assistita, molti hanno necessità di essere assistiti. A me c'è un atteggiamento in generale dove invece si tende così a non avere, tra virgolette, molto rispetto alle persone. E questo credo che sia un fatto estremamente negativo. Il senso della certificazione di qualità quindi qual è? Garantire? Anche se siano le migliori possibili e forse anche nei tempi più brevi, perché un altro dei problemi grossi è quello della lungaggine di qualunque servizio viene offerto al cittadino. E per questo ricordi che è importante per il servizio sociale, ma non è anche per altri settori. Non è mai... Ma io chiedo, spesso, da un punto di cittadino avverto la sensazione che i servizi sociali facciano figli e figli altri, che ci sia una discriminazione in nome di una discrezionalità, come dire, non meglio precisata. Può servire la certificazione di qualità per evitare questo? Credo proprio di sì, perché questo che lei ha letto è vero, che da parte dei cittadini c'è questa tendenza a pensare che magari uno sia favorito rispetto all'altro. Invece con questo sistema io credo che questa certificazione è quello che agevole anche questo percorso di assistenza e allo stesso tempo elimini quell'impressione negativa che si ha in effetti così nella...